Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono il vostro caro MastroKing e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Stoneblock Ora, tralasciando il lag, il gioco che mi sta andando veramente, veramente piano Ok, vediamo se presto si riesce a arrivare a qualche FPS di più Allora, ci siamo rilasciati all'ultimo video che stiamo accendendo solo al panel Gli ultimi che avevamo fatto erano quelli di tier 5 panel, mentre ne ho fatti altri Vediamo se riesco a fare quelli di livello 6 Se, e ne riesco a fare giusto 2 Perfetto Ora volevo vedere quelli di tier 7 Però per fare quelli di tier 7 Sarà un bel problema Perché Per quanto riguarda, come vedete, questi qui Le forovoltaic sell No Ah, ok, quelle 2 Cosa mi manca? Vediamo Allora Ah, così, più semplicemente Ok, queste sono quelle di tier 1 Ora posso fare quelle di tier 2 Sì, queste le ho fatte Ah, ok Quindi bastano quelle là di tier 1 Ora mi manchi Ok, se ho l'art panel 3 ce l'ho Ah, ok Ne ho fatte 2 Quindi Devo continuare a fare queste qui E mi mancano sempre qualche pezzo I ravi slazzoli Semplicemente Allora Spero Che qui Un po' farmando Sì, perfetto Qualcuno me ne aveva lasciato E stiamo, diciamo A posto per Farne un po' Quindi Diciamo che Vediamo quanto ne riesco a fare 44 E quindi dovremmo essere Abbastanza messi tranquilli Ok, ne riesco a fare 22 Ok Da 22 12 Ok Cosa mi manca Quelli 4 Ah Semplicemente Dei blocchi di Iron Qui sotto Dovrei averne Un po' Di iron Un bel po' Perché ho La testa di scheletro Non ne ho idea Però Il problema Non si pone Ok Ne riesco a fare Quasi Tutti gli stack Che mi servono Cioè Ne ho fatte un bel po' Quindi sto Ah Quello normale Non serve Non serve Lo normale Di bloccoli Iron Eh Ah ok Quelli Dele ho 4 Ah ok Quelli dele ho 4 Quelli ho fatti ora Ah Gold Non iron Ok Quindi diciamo Che stavo Stavo Con l'iron Stavo a posto Intanto mi Continuo a raccogliere Un po' di roba Da qui Poi piano piano Le vado a Sistemare Quindi Torniamo E a farmare E Mi manca sempre Il blocco Di iron Ah giusto Perché se non Li vado a mettere Lì dentro Non Ne vado A ottenere Nessuno Infine Possiamo andare A rifare Queste Di livello 6 E finalmente Possiamo Andare Provare A fare Quelli di Livello 7 Ok Quindi però Per fare questi Serve un bel po' Di roba Ok Tier 7 E Dovremmo aver Comprato La missione Ora Mancano gli ultimi I tier 8 Intanto Andiamo a vedere Ah Ok Me ne servono 3 Perché Me ne basta La farmare 1 Le Dragon Egg Non credo Le averle Ce le ho Per fortuna Ora Devo fare Le ultime Le ultime Solar Panel E quindi E quindi Per fare Le ultime Devo Farne Veramente Tanti Di questi Mirror Che Veramente Tanti Ne serviranno Ok Penso Che Per il momento Dovrebbero Bastare Sono più Di 800 Ah Volevo fare Questi qui Di tier Ah Finito il legno Che dovrei avere Un altro po' Qui sotto Si ne ho Veramente Veramente Tanto Tanto Approfitto Per togliermi Quella Lesta Di schilidro Che ho Così Da stare Abbastanza Tranquillo E Vado Continuare A farmarne Un altro po' Ok Altro stack Al che parte Dovrei avere Del resto Della legna Se La vedo No Penso Sia Più sopra Dovrei Stare Intorno Ecco Infatti Ok Vediamo Quante Ne riesco A fare Ancora Ok Per un po' Ce li ho Però Rimane sempre Il fatto Di Cercare Cercare Di averne Quanti Più Possibile Perché Più Ne faccio Ora Più Ne riesco A fare Dopo Nel senso Che Non Si vanno A creare Troppi Problemi Problemi Per quanto riguarda Solar Panet In generale Perché Questi Mi servono Veramente Veramente Tanti Infatti Con tutti Li che avevo Ne ho Ne ho Fatti Solamente 27 Di tier 2 E Andrò A fare Giusto 10 Di tier 3 Ok Vediamo Questi Qui Di Livello 4 Cosa Manca Per Il Tier 4 Ok Allora Qualche Parte Dove Avete I Miei Famosi Blocchi D'oro Che Non Vedo Quindi Vado Ok Cosa Mi è andato Buono Non Volevo Aprirlo Subito Però Diciamo Che Cliccarlo Male Quindi Devo fare Tier 4 Ok E Ne riesco A fare Ok Dovrei stare A posto Perché Ora Dovrei Averne Appunto Ne Devo Fare Al 3 Di Ah Eccoli Quindi Altri Due Ne riesco A fare Ok Tier 3 Li Posso Fare Però Per Poter Rifare Servono Altra Ne Servono Veramente Altri Di Lavi Slazzoli Perché A quanto Pare Ne Ho Veramente Veramente Pochi Lì Da qualche Parte Dovrei Avere Anche I Polli Di Lavi Slazzoli Penso Che Li Andrò A Farmare Giusto Quando Mi Serviranno Ok Dovrei Dovrei Sare A 4 Ok Dovrei Sare A posto Per quanto Riguarda Ora In poi Ok Questi sono Quelli Lello 5 Livello 6 E Cosa Mi Manca Quelli Lello 6 Ah ok Semplicemente Un paio Di Lampale Ma Per il momento Me ne basta Una 6 Quindi sto a 4 Quindi posso fare finalmente Lello 7 No Me ne manca 1 Tu Come Ti Ottenevi No Semplicemente Andando Di A raccogliere Quindi Devo Andare Di La Dal Drago Per Andare A raccogliere Un po' Del suo Respiro Uh E tu Allora E quindi Non so se Yandy Ristall Un po' Ne ho Ancora No And the crystal Zero Proprio E Serve Il Glass Normale Che Non voglio Assolutamente Nel A colorare Però 3 E 4 Allora Jet Jet pack C'è L'ho Però Volevo andare A prendere Un arco Ora Vengono pure Le cose Cioè I stivaletti Tanto questi Non sono oramai Più Utilizzabili Ok Questi Non so Se si possono Sommare Tra di loro Tanto Voi vi indosso Se Eh si Perché hanno Ah Ok Quindi Quello Era L'upgrade E Vado a Prendere Un po' Di Freccia Così In questo Modo Andando Di qua Ho la Possibilità Innanzitutto Di andare A Resuscitare L'ender Dragon Una volta Che L'ender Dragon E' Stato Resuscitato Prendere Intanto Distruggere Lì Alle Sue Torrette E Quindi Andare A Prendere Le Mentre Distruggo Le Torrette Si Vanno A Raccogliere I Suoi Respiri E Poi Una Volta Raccolti I Suoi Respiri Ho la Possibilità Alla fine Di Ucciderlo E Di Ok Si perfetto Ho la Possibilità Di Ucciderlo E E Quindi Di Recuperare La Di Dornare Lì E Di Finire Il Farming Ok Ok Ocura Dovrei Stare Ok Ce l'ho fatta L'ho Resuscitato E E Quindi Posso Cominciare A Distruggere Le Torrette Senza Cercare Senza Morire Più che altro Anzi Una cosa Che non Ho preso È Stato Il Abbastanza Cibo Quindi Devo stare Molto Molto Attento Ok Non so se Intanto Prendo pure Te No 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 Sì Il Respiro Ok Questo era Praticamente Finito Posso Mangiare Fanno sempre Attento A non Mangiare Troppo Ok Ne raccolte Sei Quindi 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 Cosa Assolutamente Devo fare Aggiusti Il piccore Se no Ci metto Veramente Tanto No 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 Ok Intanto Torno A raccogliere Il Un po' Di respiro Ok Dovrebbero essere Rimasti Gli ultimi Due Questo E' un altro In teoria Ok Dovrei Dovrei Stare A posto Ok Fuori un altro Dovrebbero essere Finiti In teoria No E' rimasta Solo Questa Ok Si è Realizzato Un volo Ok Ok Ho distrutto Tutte le Rosette Ora Il drago Sta Lì In mezzo Ok Mi ha colpito Però La cosa Assolutamente Devo sperare E che A proposito Non so se Ho del cibo Qui No Mi pare Assolutamente Di no Ok No Non voglio Morire Ok Sono Praticamente Morto Perché Non avevo Praticamente Più cibo Ora Se Riesco Innanzitutto Devo Andarmi A prendere Ah ok Questo L'inventario Rimasto Così Quindi Sicuramente Il cibo Non so Se mi è rimasto L'altro Jetpack No Anche se Penso Che da qualche parte Ok Voi vi devo prendere Allora Cosa Devo fare Prendere Sicuramente L'arco Un altro E Le Frecce Quindi Frecce Frecce Ok No Non volevo Essere attaccato Da te No Non volevo Essere attaccato Ok Sta Ricaricando Il mondo Nella Speranza Allora Io Vado avanti Nella speranza Che non Decide Di attaccarmi Proprio In questo Momento Ok Ok Ora Diciamo Diciamo che La cosa Che Assolutamente Devo fare È Dirigermi In direzione Della Di dove Sono morto Stando attenti Ai Vari E Ai vari Enderman Dove sono morto No Non ci sono più Waypoint Ok Dovrei essere No Dovrei essere Morto In questa zona Qui Credo almeno Perché se Sono morto No Le api Non mi interessano Quello Voglio capire Ok Si è risvegliato Il drago Allora Diciamo che Non è tanto Il jetpack Il problema Che lo rifaccio Ma il problema È che Ah Eccola lì La tomba Dovrebbe essere Quella lì No Ok Ok Si qui Sopra È dove Sono morto E Dovrei Riuscire A Sperando di non morire A risalire Anzi Devo Cercare Di risalire Ci devo riuscire Abbasso No Io c'è anche Non li volevo Caricare No Questi mi hanno Beccato Ok Allora Cosa Fondamentale È che ho Capito Che Il Il drago Nel senso Il Non il drago Il Esiste Ci sta ancora Ci sta ancora La Il due sono morto Quindi ci sta la tomba Quindi Cosa Molto 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 Importante Quanto Di risci Hai Solo Uno Me lo Devo Far Bastare Mi prendo Giusto Un altro Paio Di blocchi Non si Sa mai Questa Cosa Questo qui È L'ultimo Quindi Assolutamente Devo Riuscire A Batterlo Ok L'unica cosa Devo sperare Che Vada Verso Il Centro Perché Se Il drago Va Verso Il centro La spada Posso colpirlo E Sperare Di Farlo Fuori No 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 Ok Passo Per di Qua Ora Devo Vedere Dove È Il Drago Dovrebbe Essere Verso Il centro Sì Infatti Eccolo Devo Colpirlo No 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 Sono Rimorto Allora 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 L'unica cosa Che posso Andare A prendere Sono queste Cose Qui Anche perché Se le perdo Non è un problema Quindi Devo Gli archi Non ne ho più Quindi L'unica cosa Posso Prendere È La spada È Il Del Cibo E Sempre Dei blocchi Che Non Si sa Mai Cibo Cibo Dove Ho messo Il pollo Eccolo Qui Anche se Devo Mettere Non riesco A capire Perché Non Abbiamo Perché Non Non riesco A Diciamo Cioè Non faccio In tempo All'arrivare Che subito Mi fa fuori Vero che Non è Sono Chissà Quanto Forte In PVP Però Cosa Fondamentale È Quella Di Mangiare Ok Vediamo Se Riesco A Colpirlo No Non Non posso Colpirlo Ok C'è uno Scheletro Ok Vediamo Se riesco A aprirlo Ok Dove Restare A posto Per uno Qui ci sta Altra roba Quella 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 Di prima Con l'arco Tutto Quanto Ok Arco Arco No 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 Ok Ora L'unica Cosa Che Mi conviene Fare È Andare Di là Anche perché È l'unica cosa che posso fare Quindi Sempre se si decide di entrare dentro al portale E alla videocamera se si decide di andare di là Ok Webpoints Questo dovrebbe essere l'ultimo No Devo sperare che non No 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 Ok perfetto Dovrebbe essere Per il momento dovrebbe stare un po' lì al centro E quindi Dovrei stare tranquillo per un attimo Ok Allora cosa più importante devo fare È quella di Correre Nella speranza di Che si decida a non Farmi fuori Subito Ok In teoria Ora dovrebbe andare Verso il centro Infatti E infatti Sono riuscito A Ucciderlo Parte Una marea di lag Quella però Diciamo che Sto messo Abbastanza bene Allora Intanto vado a rimettere L'armatura Oh il cuore Sono riuscito a recuperarlo Ora Qui da qualche parte Dovrebbe esserci il punto Dove Senza che Casca Ok Qui c'è l'uovo Ok E non Non mi interessa Ok Lì Qui è dove Ero andato a finire Dove dovrebbe essere La Ok Gli scheritri sono Veramente tante Quindi Sicuramente Un altro paio Di blocchi Di lato Volevo Andarci Riesco a colpirvi Anche già No eh Ok Ok Non volevo Suicidarmi Però Per fortuna Non Non è Non c'è stato Bisogno Non so Sono rimasto in vita Ora Devo sperare Nel Recupero Rabiro Delle cose Ok Qui ci sta Il nostro Amico Scheletro Ok E lì Dovrebbero esserci Gli Altri Ok Devo scappare Assolutamente Perché se no Questi mi fanno Letteralmente fuori Ok Mezzo cuore L'ho recuperato Ok Qui ci sta L'altro Che Faccio fuori Subbito Ora Dovrebbero essere Fini di scheletri E quindi sto a posto Dovrei essere A posto No 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 Niente da fare Ok Ok però Intanto Il drago L'ho Fatto fuori Quindi Il problema Non Non si pone Prendo Prendo giusto Un ender Perla Che non Si sa mai Ora Devo poter Asportarmi All'ultimo All'ultimo Eccola lì Che questa Dovrebbe essere Questa 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 Ultima Di morte Anche se Devo ammettere Che Effettivamente Ok Come Cib Dovrebbe essere A posto Ok Quello Dovrebbe essere Velluto E me ne manca Giusto Uno Anzi Ah sono Due Altre schede Ci stanno Qui Ok Dovrebbe essere Rimasto Solo Questo Ok Anche perché Non Ne vedo Più Di scheletri Ok Ora Devo raggiungere La parte Lì Sotto Sperando Di Farcela Addio Non so Se ce la dovrei Se ce la faccio Con lo Spazio All'inventario Non credo Allora Intanto Mi posto Tutta questa roba Uh Pure Supreme Essence Ok Mi sistemo Un attimo La roba Ok Sono praticamente Pieno Ok L'importante Era Riottenere Il piccone Jetpack Me l'ha Ridato No Si vede Che è caduto Insieme A tutta La roba Ok Ok Jetpack L'ho Recuperato Torce Me le metto Di qua La spada Questa È fondamentale E qui Ci sta Tutto Il testo Che dovevo Prendere Perfetto Quindi direi Che posso A parte giusto Un po' Di Essenze Che posso Tranquillamente Andarmi A recuperare Il cibo Sempre fondamentale E posso Tornarmi Ah giusto Anzi Prima di tornarmene A casa Posso Tranquillamente Togliere I Waypoint Nelle Varie Morti E quindi Finalmente A casa Ok Do questa Aspettiamo Un secondo Carica il mondo E posso Finalmente Posare Tutto Quello Che non Ah Ho Ho Fusato Tutte Le spade Però Il problema Non Ce n'è Tanto Dopo Me Me Le vado A recuperare E quindi Infine Posso Andarmi A fare I vari Solar Panel Gli ultimi Di livello 7 Quindi posso Farmi Questi Di livello 8 Finalmente Ok Allora Intanto Vorrei Aprirmi Questo Limba Hammer Ok Posso Andar Per il momento Direi Che Per questo Video È tutto Spero Che Vi sia Piaciuto Prossimo Video Andremo A vedere I vari Array Con i vari Block E Varie cose E Spero Che Questo Vi 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 Riccomando di lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale E di seguirmi su twitter e instagram facebook ovunque voi vogliate Io vi saluto ciao a tutti voi